Nella serata del 16 dicembre la splendida cornice barocca della chiesa di San Benedetto di Massafra ha ospitato la manifestazione Poesie e Note di Natale, organizzata dalla Società Operaia. L'incontro ha visto l'alternarsi tra le esecuzioni all'organo di alcuni dei più celebri brani natalizi da parte del maestro Pietro Silvestri e la lettura dei componimenti a tema tratti dalla colonna I Tre Ponti, recitati da Giovanna Greco, dell'Associazione Il Ventaglio e da Licio Pelillo. La conduzione della vicepresidente Ilaria Barulli ha guidato il pubblico nel magico mondo del Natale creando un apposito percorso metaforico che ha coniugato le note ed i testi ascoltati. Il centro dei saluti finali del presidente Nicola Fabio Assi è stata la riaffermazione di come le poesie dei Tre Ponti siano sia entrate di diritto nella tradizione popolare massafrese tanto da essere sempre prese in considerazione in contesti culturali diversi da quello della società operaia ma è nell'ambito di quest'ultima che traggono la loro origine. Chiunque fosse interessato alla riedizione della summenzionata serie in singoli fascicoli o in un volume unico riproposta con il sistema della stampa su richiesta può recarsi nella sede del Sodalizio sito in Corso Italia 17 dal lunedì al sabato dalle ore 16.30 alle ore 18 per richiedere maggiori informazioni al riguardo. Ci troviamo nella splendida cornice barocca della chiesa di San Benedetto una delle più belle se non la più bella della città di Massafra in occasione della serata dedicata al Natale in cui abbiamo pensato di intermezzare con le poesie tratte dai Tre Ponti l'esecuzione all'organo dei brani natalizi ad opera del maestro Pietro Silvestri. Il secondo organo più antico della Puglia può così essere utilizzato per una manifestazione dal tono culturale popolare molto importante soprattutto tenendo in considerazione anche che le poesie contenute nei Tre Ponti sono entrate nell'immaginario comune massafrese tanto da essere utilizzate da chiunque anche in contesti diversi da quelli della società operaia. Ringrazio per la realizzazione della serata la vicepresidente Laria Barulli che ha condotto la manifestazione, Giovanna Greco dell'associazione Bentaglio e Licio Pelillo per la declamazione delle poesie il maestro Pietro Silvestri per l'esecuzione all'organo nonché il parroco Don Giuseppe Ciaurro e i suoi collaboratori per averci consentito l'utilizzo della chiesa e averci accolto al meglio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.